Perché il suo entusiasmo ci contagia, la sua esperienza è preziosa per noi e i suoi suggerimenti e le sue indicazioni sono risorse per noi. Quindi è stata una giornata come tante altre, magari ha più risonanza in questo momento perché è stato creato, è un periodo un po', le situazioni vengono gigantite secondo me, è stato un stare insieme molto sereno come è successo anche altre volte.